La fila di BPA torna a gioire, batte Forlì e prova a sperare nei play-off dopo una gara al calor bianco in cui Iesi può far conto su Griffin, espulso appena per 10 minuti e decisa all'ultima curva da un sorpasso Iesi in en extremis, firmato Michele Maggioli. Quando a 18 secondi dalla fine Forlì, che è a più uno, va in lunetta per l'allungo con tessitori che però li sbaglia tutti e due, il capitano di là riporta avanti Iesi 78-77 con un canestro dei suoi e 5 secondi ancora da giocare. Istanti in cui Forlì cerca e quasi trova il varco giusto ma Maggioli ci mette i suoi 2,12 metri e la manona contro cui si ferma Spencer per la festa della fila di BPA. Un'Aurora che era partita bene, 18-11 al nono con Maggioli e di due americani sugli scudi ma che a 12 secondi dalla fine del primo quarto aveva perso Griffin, espulso insieme al romagnolo Simeoli per uno scambio di cortesie. Nel secondo spicchio il ritorno di Forlì fino al 34-34 del ventesimo, poi gli ospiti avanti e Iesi che prova a tenere e risponde con Hoover dalla linea ma anche con una tripla di Santiago e Sanders 54-52 al trentesimo. Quindi il finale, doppia tripla di Zanelli, canestro di Valentini e morso dall'arco di Hoover per l'11-3 Iesi ed il più 10 dopo due minuti dell'ultimo quarto, 65-55. Un vantaggio che Forlì erode con la tripla di Borsato e con Roderick, meno 5, mentre Iesi perde nella metà campo avversaria due palloni che portano ad altrettanti canestro e fallo, 72-70 con Natali e Roderick al trentaseiesimo. Nell'altalena finale, Forlì sul quinto fallo con tecnico a Valentini, impatta dalla lunetta e colpisce da tre con Borsato, 74-77. Maggioli mette due liberi e si arriva appunto al thriller dei 20 secondi finale. Con lieto fine per Iesi, quattro vittorie su quattro incroci stagionali con Forlì ed il suo caldo pubblico e due punti che pesano. Ora la sosta alla ripresa del 17 marzo, trasferta cruciale a Capodorlando.